Nuovo sopralluogo del presidente della regione toscana Enrico Rossi a Livorno per verificare l'avanzamento degli interventi di ripristino nei luoghi devastati dall'alluvione del 9 settembre 2017. Con il consigliere regionale livornese Francesco Gazzetti, Rossi ha visitato i punti più critici, il ponte sul rio Maggiore, che sarà rifatto, il nuovo muro sul rio Ardenza e il nuovo ponte di via remota, dove a raccogliere la delegazione c'era un gruppo di cittadini che ha donato a Rossi un tagliere in legno di ulivo. Dei 294 interventi previsti, 266 sono già stati conclusi, mentre gli altri, quelli per evitare i rischi futuri, sono in corso o in fase di gara. Sono opere di riduzione del rischio, quindi io credo che entro il mese di marzo riusciremo a far partire la gran parte dei lavori di questa terza fase, che sono quelli che metteranno tutta la realtà di Livorno in condizioni di poter far fronte ad un evento analogo come quello che si è verificato l'anno scorso e a farlo con una riduzione notevole del rischio, con una maggiore preparazione, condizione diversa dal punto di vista strutturale. Il piano dei lavori per Livorno vale un ammontare complessivo di 85 milioni, di questi 70 sono stati messi a disposizione dalla Regione, mentre gli altri 15 dal Governo. Grazie. 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 Grazie.